Un sogno che si realizza convertendo un periodo negativo dettato dalle conseguenze del Covid, la perdita di lavoro, in un'avventura. Così Jessica ha iniziato a pianificare il Giro d'Italia a cavallo in sella alla sua fedele compagna di viaggio, Fatira di Pegaso. Con il Covid mi sono purtroppo perso il lavoro e ho avuto la possibilità di avere un sacco di tempo libero per me e ho pensato di investirlo nella realizzazione di questa piccola impresa, nonché sogni. Ha già percorso un primo periodo di prova in Friuli. Ho già percorso, come diciamo, test drive, ho fatto tutto quanto il percorso del Friuli, quindi siamo andati in avanscoperta, da Tolmezzo, le Alpicarniche, fino a Moggio di Nese, poi siamo scese verso Lignano e abbiamo appunto percorso questi 480 chilometri e ho scoperto i nuovi tracciati da poter effettuare a cavallo, quindi per incentivare il settore equestre. Ferma per pochi giorni, ora è pronta a tornare in sella per percorrere il versante adriatico Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, fino alla punta dello stivale e risalire su in quello tirrenico. Organizza le soste in aziende agricole o maneggi per garantire il foraggio al cavallo e avere un posto in cui ripararsi, ma tutto si basa su imprevisto e capacità di adattarsi alla natura e al clima. Ho strutturato una media di 30 chilometri al giorno, fatto salve gli imprevisti, che sono purtroppo un quotidiano, perché magari tra le piogge, alberi caduti, frani, recinzioni, strade bloccate, non è facile, anche l'urbanizzazione non rende il nostro percorso molto agevole, però siamo un po' due pionieri, andiamo alla scoperta e ci stiamo destreggiando. Diciamo che cerchiamo sempre di tenere valida un'alternativa, quindi qualora la strada diventasse troppo pericolosa.